Tutti ragazzi potete vedere un nuovo video in questo video per un video? Come si chiama? Postate challenge Postate challenge 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 Ecco E io ho già scritto qua una cosa però non lo vedete nemmeno voi E allora, iniziamo Io ci devo degli indizi e lei deve indovinare Dai Allora, cosa c'è? E si trova in cucina E serve per... Per mangiare? No Per sedersi Sedia? Asp... Sì Sì Io so Vedo, aspetta Eh, vogliamo? Ecco, guarda Si vede piano, si vede il preciso, guarda Sedia E se Ora me lo scrive già non Torna e a capa Ora me lo scrive lei Mettiamo altro in pausa, lei lo scrive quello e poi è dove Si vede? Ecco Allora Vediamo Si vede? Non si vede Vediamo E se l'ho messo Dove si trova? Eh Eh Lo usano le femmine Ombretto No Rossetto No Eh Una cosa che si porta a passeggio Un cane No Oppure i maschi lo portano Orologio? No Tutti lo portano Capelli Borsa? Sì Eh Non lo sapevo Andiamo Vediamo Solva Borsa Sì Borsa Allora Ora Sto piano Ce l'ho appeso Non si vede sempre E E ci vai ogni mattina Scuola Ecco Che è facile Dove ho detto Non ci riesco Sì C'è 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 Viviamo Lo chissucca Sai cosa faccio Ci devo la parte Tu E io la parte Piccola Tieni Scrivi qua Ciao Fai Sì Non lo faccio Verò Perché è una borrola piccola Che ho pensato Vediamo Mettiamo in pausa Come vedete Io non guardo Perché Lei scrive dietro La sua mia Scrive No Scrive In cucina Quindi Non posso vedere niente Mettiamo in pausa Ehi Dove si trova? E Non posso dire Se lo vede tuo padre Per ora Partita Juve Guarda Juve Per ora Ci penso io Ah Ehm Per ora Lo devi carcare No Perché Non lo devi No Sì Visto Io l'ho carcato Però Non lo devi carcato No tra pizzo e no non guarda ok tu dimmi dove si trova dove si trova e a casa tua sarebbe un animale Zeus bravo non ho capito non ho capito non ho capito che ci può servire ancora vedi che ci può servire tieni che tu serve una parola piccola no non ci va non ci va ancora non ho capito aspetta alza i capelli l'hai fatto vedere l'altra volta nel video no non si vede tanto l'hai fatto vedere l'altra volta nel video quale video? l'ultima volta che ho fatto il video con me e qual era? il cover? no no telefonine? no speciali? no qual era? l'ultima cosa cos'era? che era grande no cappello si riprendiamo prima c'era mio padre che rompeva e ho indovinato prima è il cappello come l'avete visto vedete il video quello vecchio precedente il precedente lo scandale allora c'era il mio padre che rompeva mi ha trovato tutta la caricia allora ti a te le tocca a farmi a me le tocca no no che ne 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 è che schifo perfetto questo qua è bianco è bianco ok se lo so questa macchina vuoi vuoi gioco? buono prendiamo la piena la piena e tu schifo è di stag 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 Ah, ok, va bene Guardate le cocchie già tue E' male Ecco, vengo a guardare Vengo a guardare, vabbè, vabbè Mamma Cucu Allora, dove si trova? Qua dentro E' una cosa Ci stiamo facendo noi il video Telefono E' sopra Computer Caffè Sì, caffè Ah, sai, come ci stiamo facendo sopra? Me lo vuoi spiegare Questo qua, come si chiama? Screvania Hai indovinato dopo 40 anni Capilli, capilli Più la scippa murica, va I capilli, la scippa Così facciamo la scietta La scietta, la scietta, la scietta La scietta Più la scietta Più la scietta Non ce ne esce No, te la, te la, te la, te la, te la, c'è Sì, c'è bobole Quante c'è Ora tu vuoi scrivere la mia Sì, vario Ok, dammi Ho tagliato Ma basta Ok Uita La penna, nanna Sì, l'ho vista Mamma la penna Così, eh Non giocavo un cavolo Va bene Guardate quanto è lungo Dove si trova, cosa serve Allora, si trova qua E tu ci giocavi quando eri piccolo Pupazzo? Sì Ah? Sì Sì Ho accettato Tutto? Sì Eh, sul telefono è stato No, però guarda Ho accettato È una cosa incredibile Non sai cosa ha scritto Non sapete cosa ha scritto Va bene ragazzi Ok, come faccio Ehm Faremo Vabbè, io vi saluto con questo No, no Faremo uno scherzo anonimo E poi ci salutiamo Qui Va bene? Ah, cioè abbiamo ripensato Non lo facciamo Perché con il video Con quello di mia cugina qua Non lo possiamo fare Perché non c'è minuti E con il mio perché ci siamo facciati un video Non lo possiamo fare Al prossimo video Poi lo facciamo Ciao Salutiamo Assoglie tutto Sai così No That's it Allora, ci salutiamo Ciao E alla prossima